Il mondo scoprirai, molte cose parlerai, Blippi! Oh, ehi! Sono io, Blippi! Stavo solo ballando! Oh, ma fa molto caldo fuori! Vorrei poter fare una pausa! Beh, non c'è tempo per le pause quando stai ballando! Oh! Lo vedete? Wow! È un carretto dei ghiaccioli e io adoro i ghiaccioli! Penso che dovremmo prenderci un bel ghiacciolo! Andiamo! Ehi! Ciao, Blippi! Molto piacere! Come ti chiamo? Io sono Giulia! Ti andrebbe un ghiacciolo artigianale? Ma certo! Io adoro i ghiaccioli! Che gusti hai? Questo è cha-cha-cha! Mango, ananas e semi di chia! Uh! Sembra invitante! Mango, ananas e semi di chia! Ma è proprio buono! Sono felice che ti piaccia! Vuoi vedere come si prepara? Certo! Sarà divertente! Andiamo! Ande, andiamo! Benvenuto nella mia cucina! Wow! Guardate questo posto! Fortissimo! Grazie! Ora, per prima cosa, devi prepararti! Oh! Guardate! Questo è un grembiule! Mettiamolo! Wow! Ok, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo tutti gli ingredienti che usiamo per fare i ghiaccioli! Uh! Sembra che ci sia tanta frutta e verdura! Sì, esatto! In effetti usiamo molti cibi funzionali per i nostri ghiaccioli! Puoi vedere cavolo, avocado e spinaci e semi di chia! Questo cos'è? Questo è un cocco! Wow! Forte! Un cocco! Buono! Beh, che gusto prepariamo? Penso che prepareremo un braccio di ferro! Braccio di ferro? Yeah! D'accordo! Indovina perché si chiama così? Oh! Non lo so! Perché? Usiamo gli spinaci! Ok! Prendi gli spinaci! Ne stavo già preparando un po' prima, quindi potremo aggiungere! Ok! Quindi abbiamo degli spinaci e cos'hai tu? Fragole! Fragole! E poi useremo dei datteri! Uh! Datteri! Haha! Bene! Andiamo lì dietro! Oh! Ok! Avevo già iniziato a preparare questo gusto prima! Oh! Guardate! Sì! Sembra invitante! Cominciamo! Aggiungili! Ok! Ciao ciao, spinaci! E qui ci sono fragole! Uh! E datteri! Miam! Ora, quello che è diverso dalla tua cucina è che qui abbiamo delle macchine molto grandi! Davvero? Che emozione! Wow! Guardate qui! È proprio enorme! Che cosa fa questo? Questo è un frullatore a immersione! Wow! Lo devi infilare dentro e poi premere il bottone! Wow! 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 Ecco fatto! Quindi questo frulla tutto in un liquido? Esatto! Fa proprio questo! Wow! Sembra gustoso! E adesso cosa facciamo? Ora lo verseremo negli stampi! Ok! Ci servirà la mia brocca! Uh! Wow! Quindi, in pratica, sono tre ingredienti frullati insieme per creare un liquido gustoso! Quello che dobbiamo fare ora è versarlo! Oh! Dobbiamo farlo entrare nei fori! Agitandolo! Esatto! Posso? Esatto! Ok! Qui ce n'è ancora! Qui ce n'è ancora! Wow! Sono rimasti dentro dei pezzi grandi! Va bene! Ce n'è ancora! Ok! E non ci resta altro da fare che togliamo questi pezzi e mettere dentro i bastoncini! I bastoncini dei ghiaccioli! Mi avete mai mangiato uno tenendolo con un pezzetto di legno? Esatto! È quello che abbiamo appena infilato! Sono davvero comodi! Ok! E adesso li mettiamo nella nostra speciale macchina per ghiaccioli! Wow! Che cosa fa questa macchina? Li rende super freddi! Congela i ghiaccioli in... 18 minuti! Wow! Sono proprio emozionato! Mi piacciono tantissimo i ghiaccioli! Ehi, guardate! Adesso li metto dentro! Wow! È davvero così freddo lì dentro! Sì, è fatto con un liquido speciale che congela i ghiaccioli! Wow! Capito! Non posso dirti i miei segreti! Ah! Magari dopo! Adesso che si fa? Beh, di solito... Mentre aspetto che i ghiaccioli si congelino... Vado a ballare! Ok, andiamo! Wow! Wow! Significa che sono pronti? Esatto! Wow! Bene! Goccioliamo il liquido rifrigerante... Si asciugano! Va bene! Adesso prendo questo straccio così non mi scivolano! Torniamo di la ballando! Sì! Li mettiamo in questo liquido! Ok, a cosa serve? E in un certo senso li ammorbidisce così vengono fuori! Uno è caduto... Ecco fatto! Wow! Questi sembrano gustosi! Che emozione! Fai pure! Prendine uno! Ok, che ne dite di questo? Wow! Yum! È buonissimo! Miam! Ma adesso devo tornare di là e vendere altri ghiaccioli! Ok! Puoi badare alla cucina! Prova a inventare un gusto! Inventare un gusto? Sembra divertente! A dopo, Blippi! Grazie per la visita! Figurati! Avete sentito? Voi ed io inventeremo il nostro gusto Blippi! Facciamolo! Capito! Cosa faremo adesso? Stiamo per preparare il nostro gusto personale! Non vedo l'ora! Bene! Con cosa possiamo lavorare? Ok! Sapete che frutto è questo, vero? Esatto! Questa è una mela! Ok! Sembra che ci sia dell'uva! Yum! Cosa sono questi? Guardateli! Già! Questi sono limoni! I limoni sono di colore giallo! Wow! E poi abbiamo del verde qui! Wow! Spinaci! Wow! Wow! Ciao! Sembrano capelli! Questo è cavolo! Il cavolo è davvero buono! E non ama i contenitori! Che bufo! Ok! Mettiamo a posto questi! Così possiamo continuare a vedere che tipi di frutta e verdura abbiamo! Come questo! Oh! Questo è pesante! Yeah! Questa è un'anguria! Le angurie sono proprio grandi! E gustose! Sapete di che colore è l'interno dell'anguria? Esatto! Rosso! E l'esterno è verde! Ok! Ancora altri due! Banane! E... Ananas! Yum! Ok! Dunque! Vedete che qui abbiamo questo grande secchio! Ci servirà per metterci dentro tutti i nostri ingredienti! Avevo dimenticato le fragole! Cominciamo con queste! Andiamo! Woohoo! Haha! Ok! Ora il cavolo! Woohoo! Haha! Mettiamone un po' qui dentro! Woohoo! Woohoo! Haha! Haha! Stiamo andando bene! Oh! Mele! Ok! Possiamo mettere una mela intera qui dentro! Ma penso che sia meglio tagliarla a fette! Avete mai mangiato una fetta di mela? È buonissima! Ok! Ecco il nostro tagliamele rosso! Lo mettiamo qui al centro così e poi schiacciamo! Wow! Guardate! È fortissimo! Ha tagliato la mela e ora la togliamo da qui e la mettiamo tutta nel grande secchio! Wow! Ma togliamo il torsolo! Togliamo il torsolo che è il centro! Non lo usiamo perché è tutto pieno di semi! Oh! E parlando di semi... Anche le angurie hanno i semi! Ah! Ok! Apriamo l'anguria! Wow! Starò molto attento ad usare il coltello perché sono un adulto! Ok! Cominciamo! La taglio a metà! In questo modo! La giriamo! Wow! Guardate qui! Sembra gustosa! I nostri ghiaccioli saranno buonissimi! Ok! Ho un'idea! Arriva! Ok! Abbiamo una banana! La sbucciamo! Ecco fatto! Ciao ciao banana! Woohoo! Mettiamo anche un'altra banana! Gnam! Ecco che arriva! Gnam! Guardate! A me sembra già super buono così! E voi che ne dite? Wow! E ricordate? Abbiamo imparato che frutto è questo! Bravi! Il cocco! Bene! Questi sono un po' difficili da aprire ma... Ne vale la pena! Dunque prendiamo l'apricocco! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Guardate! Wow! Wow! Guardate quanto liquido! Fa venire voglia di berlo tutto! Ok! Lo metteremo nel secchio per... I ghiaccioli! Wow! Gnam! Ok! Usiamo questo attrezzo particolare e prendiamo un po' di polpa di cocco! Già! In questo modo! Buono! Ci siamo quasi! Bene! Perfetto! Mettiamo anche questo dentro! Gnam! Perfetto! Qui ci sono gli spinaci! Wow! E poi abbiamo un po' di uva! Metteremo uno... Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei... Sette... Otto... Nove... Dieci... Undici acini! Bene! E vi ricordate di questi li abbiamo usati prima? Questi sono datteri! Andiamo! Wow! Ok! Non dobbiamo dimenticarci dei limoni! Abbiamo così tanti tipi di frutta e verdura qui! Lo tagliamo! Wow! Ok! Prendiamo questi... E li spremiamo! Ah! Avete mai assaggiato un limone prima? Ok! Assaggiamolo! Wow! Wow! È aspro! Ok! Puliamoci le mani! E ultimo, ma non meno importante, abbiamo un ananas! Tagliamo l'ananas in questo modo! Vedete la parte gialla? Sembra invitante! Adesso prendiamo questo attrezzo per ananas, lo mettiamo sopra e poi gli diamo una bella girata! Wow! Guardate qui! E poi lo tiriamo fuori! Wow! Guardate! Ora lo estraiamo! In questo modo! E questo aggiungerà un po' di sapore dolce ai nostri... gustosi... ghiaccioli! Bene! Direi che è abbastanza! Adesso... Oh! È pesante! Torniamo di là! Ricordate qual è il prossimo passaggio? Esatto! Giulia ci ha insegnato che il secchio va... Oh! Messo qui! Prendiamo il grande frullatore... Wow! E frulliamo! Si parte! Wow! Bene! Ora è tutto mescolato! Aspettate un momento! Ci serve un attrezzo magico! Questa è una frusta gigante! Wow! Guardate! Bene! Sta prendendo colore! Ok! Mettiamo via la frusta... E poi... Mettiamo il secchio qui... E prendiamo la brocca! Vi ricordate prima? La usiamo per travasare! Oh! Oh! Che emozione! Lo versiamo qui dentro! Oh! Ne prendiamo un altro po'! Ok! Andiamo! Ok! Wow! Oh! Bene! Penso che sia abbastanza! Diamogli una gitata! Ok! Sì! Saranno buonissimi! Poi prendiamo questi bastoncini! Wow! Ce ne sono davvero moltissimi! Li mettiamo qui! Oh! Perfetto! Ok! Ora dobbiamo portarlo alla stazione di raffreddamento! Ci siamo! Lo infiliamo qui! Wow! Fatto! Bene! Adesso vi ricordate che cos'è successo poco fa? Ci vorrà un po' di tempo! Quindi... Mentre aspettiamo balleremo! Oh! È un campanello? Oh! Sembra di sì! I ghiaccioli saranno pronti! Andiamo a vedere! Uh-huh! Bene! Wow! Che emozione! Ok! Ok! Adesso dobbiamo asciugare! Sono curiosa di vedere gli ingredienti! Uh-huh! Li vedrai! Wow! Ecco che si staccano! Wow! Ma guardate! Wow! I miei due colori preferiti! Già! Guardate! blu e arancione! Li assaggiamo? Sì! Ti piacciono? Sono deliziosi, Blippi! Sai una cosa? Dovresti venderli là fuori! Mm! Fantastico! Beh! Andiamo a cercare di vendere qualche ghiacciolo! Ghiaccioli! Ghiaccioli! Chi vuole un ghiacciolo? Mi piacciono i ghiaccioli! È stato proprio divertente imparare a fare i ghiaccioli insieme a voi da Mom & Pop Shop a Costa Mesa, California! Beh! La puntata finisce qui! Ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Vi va di fare lo spelling con me? Pronti? B-L-I-P-P-I! B-L-I-P-I! Ben fatto! Ciao! A presto! B-L-I-P-I! Seguimi e venuti! Sono io, Blippi! Uh! Cosa abbiamo qui? Ah! Questa è una vasca! Oggi la riempiremo d'acqua! E poi andremo in giro per il parco a cercare oggetti per vedere se ciascuno affonda o galleggia! Ma per prima cosa ci serve l'acqua! Meno male che ne ho un po' qui! Versiamola! Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette! Ok, questa mi sembra la giusta quantità d'acqua! Adesso andremo al parco giochi e cercheremo degli oggetti per vedere se affondano o galleggiano! Andiamo! Ok, adesso cercheremo degli oggetti qui al parco giochi e poi vedremo se affondano o galleggiano! Andiamo! Wow! Guardate qui! Ci sarà utile! Una scatola! Wow! Possiamo mettere gli oggetti qui dentro! Andiamo! Wow! Una parete di roccia! Vedete? Ci si può arrampicare! Wow! Wow! Guardate cosa c'è! Wow! Guardate! Dei giocattoli! Blu E arancione! Ok, guardate come mi arrampico sulla parete! Ciao! Ok, continuiamo! Wow! Guardate! Un grande scivolo rosso! Ehi! Guardate in fondo! Wow! Guardate! Yeah! Guardate cosa abbiamo trovato! Altri due oggetti! Queste sono arance! Gnam! Mi piacciono le arance! E sono di color arancione! Ok, andiamo! Venite! Oh! Venite! Oh! Guardate! Ho trovato un altro oggetto! Lo vedete? Già! Guardate! Proprio qui! Questo è un manubrio! Serve a sviluppare i muscoli! Già! Uh! Sì! Sì! Ok! Mi chiedo se affonderà o galleggerà! È pesante! Mettiamolo qui dentro e andiamo! Wow! Un altro scivolo! Guardate! Questo è dello stesso colore di quello di prima! È grande e rosso! Wow! Guardate! Gnam! Delle patatine! Mi chiedo se affonderanno o galleggeranno! Mettiamole nella scatola e dopo lo scopriremo! Wow! Guardate quest'area! Wow! Di qua! Ciao! Uh! Guardate! Un altro oggetto! Wow! È un osso per cani! Cosa ci fa nel parco giochi? È di colore verde! Chissà se affonda o galleggia! Mettiamolo qui e lo scopriremo poi! Wow! Wow! Il colore verde! E poi anche... Il blu! Oh! Ehi! Delle scale! Oh! Ehi! Siamo in alto! Wow! Wow! Oh! Guardate lì! Un altro scivolo grande rosso! Ok! Adesso scendo! Ok! Arrivo! è stato divertentissimo guardate cosa abbiamo qui quattro yo-yo uno è di colore verde questo qui è di color arancione questo è di colore blu e questo è di colore rosso vediamo cos'altro riusciamo a trovare venite di qua e questo cos'è sembra un volante ho le vertigini ok vediamo cos'altro troviamo guardate qui sembra una scala ciao un altro scivolo già ed è di colore rosso ok arrivo lo vedete anche voi già un altro oggetto queste sono matite colorate wow quanti colori qui dentro wow ok mettiamoli nella scatola per vedere se affonderanno o galleggeranno ancora un paio di oggetti e la scatola sarà bella piena andiamo oh vedete quello che vedo io guardate wow questa è una lente di ingrandimento guardate qui wow ajo con questa si vedono le cose da vicino e una formica wow una pulce quanti insetti simpatici ok mettiamo anche questa nella scatola per vedere se affonderà o galleggerà! che cosa c'è lì? un ponte! facciamo attenzione! andiamo! attenti! guardate questi! che bei giocattoli! ciao! uno, due, tre! quante cose fortissime! altre ancora! palline da golf giallo brillante! una, due, tre! già! tre palline da golf! ok! ora scendo! un altro scivolo! wow! c'è un altro oggetto qui! bacchette luminose! non vedo l'ora di scoprire se affonderanno o galleggeranno! ok! sembra che la scatola sia piena di oggetti! andiamo a vedere se affondano o galleggiano! fantastico! bene! ora che abbiamo tutti questi oggetti possiamo metterli nella vasca e vedere se affondano o galleggiano! ok! vediamo cosa abbiamo qui! la lente d'ingrandimento! ok! chissà se questa affonda o galleggia! penso di saperlo! pronti? già! è arrivata in fondo! vuol dire che affonda! ok! cos'altro abbiamo qui? oh! ehi! io 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 blu e arancione! ok! mettiamoli dentro! già! galleggiano! bene! wow! quindi la lente d'ingrandimento che è molto pesante affonda! e invece le cose molto leggere e piene di aria gli io io galleggiano! bene! vediamo! wow! palline da golf giallo brillante! bene! vediamo se queste palline da golf affondano o galleggiano! guardate! uno io io è arrivato sul fondo! quindi ora gli io io affondano! bene! torniamo alle palline da golf! pronti? wow! già! le palline affondano! ok! vediamo! delle patatine! bene! bene! vediamo se il sacchetto affonda o galleggia! pronti? già! galleggia! ma aspettate un attimo! prendiamo il sacchetto, lo apriamo e vediamo se le patatine le patatine all'interno affondano o galleggiano! wow! anche queste galleggiano! mettiamo dentro anche il sacchetto! ok! vediamo! l'osso per cani di colore verde! dite che affonderà o galleggerà? è piuttosto duro e molto denso! pronti? wow! è andato sul fondo molto in fretta quindi affonda! bene! altri due io io! già! abbiamo già visto che questi galleggiano e dopo affondano! wow! scommetto che sapete se questo affonda o galleggia! già! è un manubrio ed è pieno di ferro! quindi è davvero pesante! pronti? sì! il manubrio viola affonda! guardate l'acqua! sta diventando torbida! perché tutte le patatine si stanno disintegrando e si mescolano con l'acqua! beh! meglio sbrigarci prima che l'acqua diventi troppo torbida per vedere se le cose affondano o galleggiano! bene! questi giocattoli di gomma sono vuoti! pronti? già? avete visto? sono tornati a galla! galleggiano! ok! ancora un paio! questa è arancione! ed è una bella plastilina morbida! affonda! bene! andiamo! oh! già! è andata sul fondo! affonda! ok! ora le matite colorate! wow! le matite colorate galleggiano! perché sono fatte di legno! e quasi tutti i tipi di legno affonda! volevo dire galleggiano! già! sono in superficie! bene! ultime ma non meno importanti! le pacchette luminose! wow! wow! guardate come brillano! wow! ok! vediamo se affondano o galleggiano! già! sì! affondano! beh! e con queste abbiamo... ho una sorpresa speciale per voi! la fiala magica! stavolta contiene polvere blu! vedete? wow! bene! mettiamo la polvere dentro! wow! ok! adesso mescoliamo! sta diventando tutto blu! è divertente vedere cosa affonda e cosa galleggia! wow! l'acqua è diventata blu come quella che si trova alle bahamas! o in thailandia! oh! bene! beh! siamo arrivati alla fine del video! è stato interessante fare questo esperimento scientifico per vedere cosa affonda e cosa galleggia! se volete vedere altri miei video tutto quello che dovete fare e cercare il mio nome! vi va di fare lo spelling? pronti? b l i p p i! blippi! ottimo lavoro! annedf pleasure will continuare! wow! wow! guardate! wow! 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 yeah! questo è un grosso pick up rosso ma è proprio sporco riuscite a vedere quanto è sporco oh guardate perfetto una vasca che ne dite se riempiamo la vasca con acqua e poi aggiungiamo un po di sapone e poi laviamo il pick up dai forza riempiamola d'acqua è pesante ok andiamo perfetto ottimo stiamo riempiendo la vasca con acqua ciao è tantissima acqua guardate stiamo per fare il bagno al pick up stiamo per lavarlo già mi ha dato nell'occhio ok wow oh era proprio pesante wow mi vedete e vedete l'acqua com'è pulita perfetto così adesso possiamo mettere il pick up qui dentro e dargli una bella lavata ma prima beh ci serve del sapone un bagnetto con le bolle pronti oh ok è qui sotto anche questo è pesante scherzo vedete non è così pesante stavo solo facendo finta che fosse pesante ok adesso mettiamo il sapone nell'acqua ok wow ora il sapone è lì dentro ok adesso abbiamo dell'acqua pulita e saponata è l'ora di lavare il pick up allora voi ed io diciamo insieme blippi lava il pick up lo ripetiamo tre volte e poi mettiamo il pick up qui dentro ok ok pronti blippi lava il pick up blippi lava il pick up Sugar wow ha wow 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 oh wow non è un pick up bellissimo però prima era tutto sporco e ora guardate lo sporco è nell'acqua ora sì che abbiamo un pick up rosso si vede finalmente il colore già è di colore rosso ok è arrivato il momento di lavare un vero grande pick up rosso ehi guardate cosa c'è wow un pick up gigante rosso ed è davvero sporco ora lo laveremo e lo renderemo pulito e splendente andiamo wow guardate questo fango è davvero sporco ma prima di pulire il pick up penso che dovremmo sporcarlo ancora un po guardate farina wow wow sì guardate come lo stiamo sporcando ok un altro poco sul cassone qui dietro guardate che manciata gigante ok ancora una pronti la tirerò da molto lontano state indietro ok arriva la bomba ok credo che ci sia abbastanza farina però vediamo penso che possiamo sporcarlo ancora un po e ho quello che fa per noi già salsa piccante mi piace questa salsa mettiamo un po di salsa piccante sul pick up ma prima siccome mi piace ketchup e senope ok wow era proprio piccante ok ketchup e senope andiamo cominciamo mettiamone un po' sulla ruota ok facciamo ho un'idea prendiamo la senope gialla e disegniamo una faccina sorridente pronti? una faccina sorridente ok prendiamo il ketchup rosso rimanete lì e disegniamo una faccina triste pronti? che divertente oh ok adesso ci servono delle monete per lavare il pick up 5 dollari ok ok li mettiamo nella fessura ascoltate si jackpot wow ok ecco le monete andiamo andiamo ok vediamo con questo scegliamo risciacquo ad alta pressione cera ad alta pressione risciacquo ad alta pressione perfetto ok ci servono più monete da mettere lì dentro vediamo ok dovrebbero bastare eccole qui ok siete pronti? wow wow ok andiamo dall'altro lato è come una pistola d'acqua ma molto potente pronti? wow wow sì oh sta tornando pulito è venuto via quasi tutto ehi attenzione non bagnatevi state da questa parte wow wow ok adesso metto a posto questa rimanete lì e poi laveremo a mano ok? restate lì con la pistola d'acqua è venuto abbastanza pulito ma dobbiamo pulirlo ancora più a fondo con le mani guardate abbiamo un secchio e del sapone ok bene già sapone verde ok e poi ecco dell'acqua wow wow sì wow bene e qualcosa per strofinare come questo uno straccio perfetto guardate ketchup e senape chissà da dove arrivano wow questa spazzola è per le ruote e gli pneumatici e questo wow wow serve per il tetto che è difficile da raggiungere ma lo faremo dopo ok prima andiamo ok questo secchio d'acqua è pesante ok wow pronti? cominciamo prendiamo lo straccio e cominciamo a lavare in questo modo molto bene mettiamo ancora un po' di sapone guardate qui l'acqua è piena di sapone wow ok facciamo così sì sì dobbiamo pulire via tutto il giallo e il rosso c'è proprio un sacco di ketchup e senape uh ce n'è ancora un po' qui guardate e ok così ok e uh torniamo sul retro wow wow dobbiamo pulire qui prendiamo questa spazzola spazzoliamo 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 mi piace lavare le macchine spazzoliamo 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 ok in questo modo ok adesso è tutto pulito dobbiamo solo sciacquarlo ancora una volta prima oh ricordate la spugna molto lunga andiamo a prenderla ok oh sì guardate che spugna andiamo la immergiamo nell'acqua saponata e wow la portiamo in alto è proprio in alto ok bene direi che abbiamo tirato via tutto lo sporco quindi l'ultima cosa da fare è il risciacquo per l'ultima volta wow ok dobbiamo risciacquare il pick up un'ultima volta wow ok cominciamo wow oh wow sappiamo anche la ruota qui oh ah ok ora che il pick up è tutto pulito voglio solo dirvi ehi non sporcate nessuna macchina di un adulto di proposito come abbiamo fatto noi ah ah noi lo abbiamo fatto per questo video solo perché ci serviva un pick up davvero sporco beh è stato divertente lavare il grande pick up rosso con voi wow ok ciao ciao Blippi ehi sono io Blippi e guardate cosa c'è qui già è un escavatore oggi oggi voi e io impareremo un po' di cose sugli escavatori ok cominciamo ad imparare le parti esterne dell'escavatore andiamo wow questo escavatore è proprio grande oh e guardate cos'altro c'è di grande già questa è una grande ruota con pneumatico oh e cosa c'è qui dietro? c'è una ruota più piccola con pneumatico oh guardate wow wow questo è il battistrada della ruota il battistrada fa in modo che la ruota quando gira non scivoli o sbandi wow oh 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 ho le vertigini oh oh venite qui wow e questa qui è la cabina qui è dove si siede il guidatore dell'escavatore che forte oh e guardate qui sopra questi già questi sono i fanali e qui accanto c'è la freccia vuol dire che questo escavatore può girare anche in città legalmente wow wow questo è lo stabilizzatore e normalmente è sollevato ma in questo momento è giù nel fango in questo modo quando l'escavatore sta scavando è bello stabile wow wow sono proprio stabile uh questa parte dell'escavatore è chiamata braccio quella lì sopra avambraccio e questo è un tipo di avambraccio particolare perché si può allungare è stato divertente uh e guardate questa questa è la benna posteriore dell'escavatore può scavare delle grandi buche ne faremo qualcuna insieme dopo andiamo wow questa è la marmitta da qui il motore espelle il gas di scarico wow oh ehi guardate qui questa è la benna frontale è davvero grande ancora più grande della benna posteriore e questa benna frontale è in realtà piuttosto particolare perché è una benna quattro in uno sembra un guscio di vongola mi piacciono le vongole wow guardate questi questi sono i tubi idraulici e questo è un cilindro idraulico tutto questo sistema pompando fluido sotto pressione muove la benna frontale e posteriore wow mi piacciono gli escavatori mi piacciono gli escavatori ho fatto di guidare e manovrare l'escavatore andiamo wow 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 un momento non stiamo dimenticando qualcosa? esatto per prima cosa la sicurezza wow mi sono messo il caschetto e il gilet arancione di sicurezza adesso possiamo guidare e manovrare l'escavatore andiamo wow 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 un momento ci stiamo dimenticando un'altra cosa esatto dobbiamo controllare che il motore sia a posto andiamo a vedere dai oh bene questo è il cofano del motore ed ora lo apriamo wow che motore enorme vedete questo è il filtro dell'aria questo è il raffreddamento c'è un tubo gigante che arriva dal radiatore l'alternatore la batteria wow è potente ma quello che voi e io dobbiamo fare è controllare l'olio ed è lì sotto ci siamo l'olio del motore si controlla con quell'asta con la O gialla e quello della trasmissione con quell'asta con la T blu quindi dobbiamo estrarre l'asta gialla con la O sì ok dobbiamo pulirla e rimetterla dentro così possiamo vedere il livello dell'olio sì sembra che sia ok bene rimettiamola dentro e ora che siamo sicuri che sia tutto a posto possiamo guidare andiamo ottimo adesso siamo dentro l'escavatore per prima cosa la sicurezza dobbiamo allacciare la cintura ben fatto la cosa interessante degli escavatori è che hanno un fronte e un retro cominciamo dal fronte wow guardate questo questo è il volante e serve a guidare l'escavatore e qui invece si trova il cambio con questo si può andare in avanti o in retromarcia e invece qui questo già aziona le frecce e c'è anche sentite? sì il clacson con questo si può manovrare la benna frontale si tira indietro per farla salire e si spinge in avanti per farla scendere già forte vero? e adesso vediamo il retro che ne dite? wow come potete vedere il retro è dove si trova il braccio l'avambraccio la benna e gli stabilizzatori e tutti gli elementi si manovrano con questi due joystick questo wow 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 e questo wow 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 ora tutti e due insieme pronti? wow 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 e guardate questo bottone nero ehi ascoltate sì ben fatto bene ora è arrivato il momento di usare l'escavatore accendiamolo l'escavatore 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 questa sì che è una buca ma gli escavatori sono le macchine più versatili in un cantiere perché hanno una benna grande davanti e una benna piccola dietro wow è arrivato è arrivato il momento del ballo dell'escavatore si fa in questo modo quando vedete la benna frontale dell'escavatore sullo schermo fate così ok? e quando vedete la sua benna posteriore fate così bene cominciamo è un escavatore ma se guardi a due penne da due penne ok pronti? ha una penna su davanti l'altra che è molto diversa e sul retro è cos'è il retroescavatore grazie a lui tu vi mette cos'è bene facciamolo ancora un'ultima volta ben fatto è stato divertentissimo esplorare l'escavatore con voi grazie per aver guardato il video dell'escavatore di Blippi beh siamo arrivati alla fine della puntata ma se volete vederne altre tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome vogliamo fare lo spelling insieme? ok B-L-I P-P-I Blippi ben fatto a presto ciao 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 ehi sono io Blippi mi stavo divertendo con tutte queste bolle wow mi piacciono tanto le bolle e a voi yeah beh in questo video incontreremo una persona molto speciale che sa tante cose sulle bolle siete pronti? andiamo wow questo è fortissimo grazie Blippi yeah aspetta tu chi sei? oh io sono Megan la bollologa bollologa? che cosa significa? significa che faccio tutti i tipi di bolle bolle mi piacciono le bolle ti va a dimostrarmene una? certo posso fare bolle grandi wow questa sì che è una bolla grande ma posso fare anche bolle piccole davvero? che emozione wow guardate queste sono bolle piccole Megan ha appena fatto bolle grandi e bolle piccole wow che forza posso provare? certo bene cosa devo fare? puoi prendere la bacchetta per bolle che vuoi usare ok che ne dite di questa? wow questa ha un grande cerchio ciao bene e adesso? adesso la immergi tutta nell'acqua saponata ok e la fai bagnare per bene ok facciamo così e poi la tiri fuori e la muovi in aria wow è fantastico tocca a me 3 2 1 wow è scoppiata riproviamo 3 2 1 wow scoppiata di nuovo è meraviglioso wow questa è una bolla piccola mi piace fare le bolle pop è fantastico che l'attrezzatura per farle sia così colorata come questa questa è di colore giallo e verde questa è rossa e blu wow che forte mi piacciono i colori ma hai notato quando facevamo le bolle prima che dentro una bolla puoi vedere tutti i colori oh sì lo vedo sembra un arcobaleno come funziona ti spiego beh la luce splende sulla bolla e questa la rifrange e così puoi vedere tutti i colori dell'arcobaleno wow mi piacciono gli arcobaleni tu conosci i colori dell'arcobaleno certamente sono rosso arancione giallo verde blu indaco e violetto wow colori arcobaleni e bolle wow wii questa bacchetta è un triangolo questa bacchetta è una stella questa bacchetta è un quadrato questa bacchetta è un cuore e questa bacchetta è un fiore hai notato che tutte le bolle che abbiamo fatto avevano la forma di un cerchio davvero? come mai? perché indipendentemente da che forma di bacchetta usi la bolla avrà sempre la forma di un cerchio perché è la forma più efficiente che una bolla può avere ah questo ha senso interessante ma un attimo almeno che non usi la magia delle bolle ovviamente wow ci vediamo ciao ciao wow wow ehi ho una bolla speciale per te davvero? cosa intendi per speciale? beh posso fare una bolla insetto wow davvero? che tipo di insetto? ti darò qualche indizio ok sono pronto vediamo gli piace strisciare sul terreno ok gli piace mangiare le verdure mi piacciono le verdure inoltre devi sapere che ha una metamorfosi da adulto metamorfosi? so di che insetto si tratta? già è un bruco esatto Blippi ok vediamo questa bolla d'accordo beh per prima cosa mi serve la bacchetta blu rotonda e la cannuccia gialla wow ops perfetto wow sembra che tu stia mettendo una bolla rotonda sopra un'altra bolla rotonda esatto ok un'altra bolla circolare quindi abbiamo tre bolle circolari collegate ora uno due tre quattro wow e ancora un'altra cinque bolle o quattro bolle circolari adesso forte wow penso che i bruchi siano interessanti perché hanno una metamorfosi ehi io ho visto in che insetto si trasformano già dopo la metamorfosi si trasformano in farfalle andiamo wow bolla farfalla bolla bruco wow woohoo wii Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, guardate! È una bolla nuvola. Posso scoppiarla? Certo! Andiamo! Wow! Mi piace scoppiare le bolle! Wow! Wow! Che bolla grande! Wow! Abbiamo imparato tanto sulle bolle oggi! Abbiamo imparato i colori delle bacchette, i molti colori delle bolle stesse e le forme delle bacchette! Abbiamo imparato anche che alcune bolle possono essere grandi e altre invece molto piccole! E non possiamo dimenticarci di quei piccoli insetti carini! Che cos'è questo? Beh, ho una bacchetta per bolle davvero grande per te! Wow! Mi piacciono le bolle grandi! Che cosa farai? Questa è una sorpresa! Ok! Mi piacciono le sorprese! Ma per prima cosa devi andare lì in mezzo! Ok! Ora chiudi gli occhi! Va bene! Adesso aprili! Wow! Guardate! Sono dentro una bolla! Wow! È fantastico! Possiamo farlo ancora? Ma certo! Ok! Andiamo! Wow! Sto nuotando in una bolla! Oui! Yeah! Wow! Cos'è quella? Questa è la palla arcobaleno! Wow! Una palla arcobaleno! Vediamo come funziona! Va bene! Prima la apri... Wow! E poi giri in tondo! Wow! Fa tantissime bolle! E scommetto che la chiami palla arcobaleno perché è di tanti colori, vero? Esatto! Grazie per averci insegnato queste cose riguardo alle bolle, Megan! Grazie a te per l'ospitalità! Fantastico! Beh, ci vediamo presto! Ciao! Wow! Sto ballando come una bolla! Wow! Pop! È stato proprio divertente imparare cose sulle bolle insieme a voi! Forme e colori, misure e insetti! Beh, questa è la fine della puntata, ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Vogliamo fare lo spelling insieme? B-L-I-P-P-I Blippi! Ottimo lavoro! Ok! A presto! Seguimi e vedrai!